Ciao a tutti, oggi prepareremo le merendine tipo yogo brioche. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero, yogurt all'albicocca, olio di semi, lievito vanigliato e vanillina e marmellata di albicocche. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, lo zucchero e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per sei minuti a velocità a quattro. Aggiungiamo lo yogurt, la farina, la fecola e l'olio. ed amalgamare per due minuti a velocità 5. Aggiungiamo adesso il lievito. e lo facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 6. trasferiamolo in uno stampo rettangolare con il fondo rivestito con carta da forno e i laterali imburrati. Dopo aver trasferito il composto nello stampo andiamo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Adesso ritagliamo i bordi. Adesso con un coltello a lama lunga andiamo a tagliare M2. Mettiamo da parte lo strato superiore. Mettiamo la marmellata. livelliamola con una spatola. livelliamola con una spatola. Adesso mettiamo lo strato superiore. tagliamo adesso le nostre merendine. Dopo aver porzionato le merendine posizioniamo delle strisce di carta da forno. Spolverizziamole con lo zucchero a velo. Merendine tipo yogurt brioche. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!